Ciao a tutti amici di Fairteam, nuovo giorno, nuovo video, nuovo abbinamento di costumi. Oggi vi proponiamo sempre un spezzato con una matandina azzurra e un sopra giallo. Secondo me questi due colori insieme stanno veramente molto bene. Ovviamente dipende dalle gradazioni, dipende da tutto, però è sempre una cosa un po' carina. Il fluo va sempre bene con tutto, questo è un classicissimo triangolo, comodo, con il laccetto chiuso qua, il laccetto chiuso qua, si chiudono a nodo, quindi più semplice che non si può. Mutanda ancora più semplice perché non ha nessun tipo di laccetto fatta brasiliana, come potete vedere con tutto questo arricciato che prosegue fino qua davanti, con questo tessuto veramente molto particolare, perché appunto come potete vedere è un po' cambrant, è molto molto carino. Questo è il nostro bikini, ve lo facciamo vedere mentre si cammina. Io l'ho abbinato sempre con delle zeppe che mi sembrano la scelta più ideale per quando si ha un costume e con un bell'occhiale da sole perché di questi tempi è d'obbligo. Come sapete fa sempre molto caldo, quindi bisogna arrangiarsi a essere più freschi che si può. Ovviamente non si può andare in giro in città in bikini, però almeno se si può andare in un parco come siamo noi oggi, si può comunque essere un po' più liberi e godersi un po' di fresco all'ombra. Un bacio e ci vediamo al prossimo video!